Ho cercato di tornare ai fondamentali. Quando ero molto piccolo, arrivavo negli Stati e mi dicevano che non usavano alcuni stili di calcio e temperato con l'ultima intensità, più grande di 1,400 megapassette, erano davvero 200 KSI. E perché era questo? Perché dopo la World War II, soprattutto per studiare i testi di calcio, molte persone cercano di usare l'uso di calcio e temperato a 300 KSI, che è 2,100 megapassette. E inoltre, dopo che realizzarono, in le primi 50 anni, che non c'erano possibilità di avere una di calcio di calcio. E inoltre, tornarono a queste 1,400 megapassette limiti, che è, come ho detto, 200 KSI. i miei risultati, negli 70 anni e negli 80 anni, sono realizzati al fatto che c'erano la possibilità di usare queste stili di calcio di calcio in calcio e temperato a livello di 1,400 megapassette. Ma questi risultati restavano, in essenza, dormiti e dormiti, fino al tempo che abbiamo cominciato a fare alcuni testi esperimentali su calcio di calcio. E qui abbiamo visto che, in realtà, se stavamo arrivando a 210 gradi di calcio di calcio, e c'erano un'incrazione di calcio di calcio, in quanto si chiamano la resilienza, e un'incrazione di calcio di calcio. E qui è calcio, come i risultati che avevo parlato, potete vedere che il calcio di calcio di calcio e di calcio di calcio è quasi doppio rispetto alle condizioni di calcio di calcio di calcio, mentre c'erano un'incrazione di calcio di calcio in calcio. Passati con questi risultati, abbiamo provato a prendere i fondamentali per usare diversi tipi di calcio di calcio di calcio e di calcio di calcio calcio di calcio. E i risultati che vorrei presentare sono riferimenti a questo tipo di calcio, che ha un grande contenuto di calcio e che contrasta, probabilmente, tutte le situazioni di calcio di calcio di calcio di calcio di calcio di calcio. Ma abbiamo avuto il stesso tipo di risultati, anche con i risultati monti a Code i simboli all'inizio di calcio e Abbiamo preso un po' di questi tipi di stile e stavano produrre 17 mm di diametro di spacimenti che si trattavano da 900 gradi C dopo aver guardato per 60 minuti. Quenching si trattavano in agitato a 60 gradi C e si trattavano per 60 minuti a molte temperature di temperaturi di 160-440 gradi. C'era una distribuzione statistica per ogni condizione in modo che si potrebbero anche ascoltare quali erano i risultati specialmente per le strane fratture, che erano i risultati che vogliamo guardare. con la microscopia bioptica non vedete nulla in la lunga temperatura di temperaturi, ma ovviamente quando si trattavano a 440 gradi C, vedete che si è già in la strada di spacimenti e non lo vedo in between, perché poi bisogna andare a SEM e il tempo si trattavano lungo. Per esempio, si trattavano con una strada di spacimenti, che è ovviamente dai risultati di tempura low per la tempura, fino a 440 gradi, ma quando si si trattavano a guardare la potenza di intensi e il risultato di Megapastole, mentre temperano a 210-220. Abbiamo un'altra attività. Queste sono le fratture strane che sono costantemente in tutta la temperatura del temperamento del 10% che è considerato un'attività di attività per alcune applicazioni specifici. E vedete anche che la riduzione di area è abbastanza grande. Quindi questo è il complesso dei risultati. Abbiamo fatto un'ottica microscopica, un'ottica microscopica, un'ottica frattografia. A low temperature. Abbiamo un'occhiata e un cone. Questo è il cone, questo è il cone. Ma a low temperature. Abbiamo dei secundari cracks che sono emanati dal centro. E qui abbiamo anche alcune zone. Abbiamo anche lo stesso, anche a 200 gradi C. Inoltre, quando hai la temperatura di 140 gradi, abbiamo la situazione ad equate fratture superfici. Inoltre, quando hai la temperatura di 160 gradi, abbiamo la temperatura di 160 gradi. Ma lo vediamo è che ci sono un'attività che a volte, a 160 gradi, vedete il temperamento, quando hai la temperatura di 120 gradi. Inoltre, anche a 200 gradi. Inoltre, inoltre, si arriva da alcune inclusioni. Quando hai la temperatura di 320 gradi, hai la temperatura di 4 gradi. Ma hai il fenomeno di 120 gradi. Inoltre, c'è il fenomeno di 200 gradi che ha facilmente il fenomeno di 100 gradi. Per il fenomeno di 320 gradi. Questa è la formazione di 100 gradi. Ma qualche fenomeno di 200 gradi. Poi torniamo a quello che vogliamo mostrare, è che possiamo usare questi calciati e temperamenti stili a bassa temperatura, con altissime tensioni e altri straordinari di fratture. What I would like to point is that two counteracting phenomena act, one embrittling the grain, the austenitic grain boundaries, one toughening which is the formation of the ripe carbide structure and the coalescence of carbides. But also I would like to point out that some of the features that are embedded in the norms for fasteners, for bolts, that do not allow tempering below 425 degrees C should be really remissed, also because we have much cleaner steels, we have stress calculation codes that allow for very accurate stress and strain distribution also in complex shapes. And therefore I really thank you for having been here and I'd like to think to change the ISO 898-1 standard that is the one that is referring to fasteners. Thank you.